in molti mi chiedono come è nato il nome reparto corse è una storia curiosa e familiare mio padre rispondendo alla domanda di un nostro cliente che gli chiedeva l'accessorio sportivo gli disse di rivolgersi ad alessandro perché lui si occupava del reparto corse e appena pronunciò quella parola mi si accese una lampadina avevo capito che l'azienda si sarebbe chiamata reparto corse aspettavo solo di conoscerne il nome la guida di tutti i giorni può essere molto più entusiasmante di quello a cui siamo abituati ed è per questo che il reparto corse seleziona e crea i migliori prodotti quelli più performanti in particolare distanziali ruota molle sportive ripassate moduli aggiuntivi e filtri aria quando ho concepito l'idea di reparto corse avendo mente esattamente l'entusiasmo che si può provare guidando un'auto migliorata elaborata ed è l'entusiasmo che condivide tutto il nostro team probabilmente riusciamo a trasmetterlo ai nostri clienti che si sentono parte della nostra famiglia se sei un appassionato d'auto certamente per te la tua auto è davvero speciale e noi ti aiuteremo a renderla ancora più speciale e per questo che il nostro motto è special parts o special caps